Buonasera a tutti da Rodino Schenato e da IG e in questo webinar oggi parleremo di inversioni di tendenza e di tendenza. Per quest'oggi lasceremo stare totalmente quelli che sono i mercati in compressione di volatilità o comunque di lateralità, quindi cercheremo di focalizzare la nostra attenzione attraverso trend e vedere se è utile e interessante lavorare contro trend e quando poi può diventare remunerativo lavorare contro la tendenza del momento. Avevo fatto due esempi, prima ve li faccio vedere in modo molto veloce, molto rapido, mentre ovviamente vi spiego che cosa vedo quando vedo un grafico in tendenza, esempio prendiamo l'euro sterlina, una delle coppie più tradate del mercato Forex e vediamo che nell'ultima parte del grafico, se prendiamo il grafico e lo andiamo a cercare di analizzare da sinistra a destra, vediamo che il mercato è un mercato con una tendenza bearish, una tendenza short, una tendenza di vendita, quindi in acquisto di sterline e in vendita di euro, il controvalore, quindi quello che è interessante capire è cercare sempre di lavorare in maniera molto semplice, senza farsi troppe domande, senza andare troppo a complicarsi la vita, se noi andiamo a prendere il grafico che abbiamo di fronte vediamo che da sinistra a destra troviamo un massimo assoluto, dopodiché vediamo che il mercato è sceso, ha rotto i minimi precedenti, eccolo qua, e da lì ha iniziato una sua corsa, vedete, formando sempre dei massimi e dei minimi rispetto ai precedenti, quindi questo minimo è minimo, è decrescente rispetto a questo, questo minimo è decrescente rispetto a questo, e via dicendo, quindi principi basi, base dell'analisi tecnica, dell'analisi grafica, in questo modo io noto che ogni volta che il mercato va a violare un minimo precedente, quindi come in questo caso, ogni volta lo viola, e il mercato in questo caso continua a offrire possibilità di negoziazione in vendita su questa coppia o il mercato di riferimento, quindi ogni volta che il mercato mi rompe un minimo, eccolo qua, il mercato sta continuando una fase di trend, quindi al di là della modia mobile che vedete qui, che poi vediamo, la cosa più interessante da vedere nel momento in cui il mercato che abbiamo di fronte ha una fase direzionale, quindi vedete che per esempio in questo grafico è un mercato che continua a scendere, significa che non c'è nessuna idea di fondo che il mercato possa cambiare questa situazione, e se il mercato è un mercato che sta scendendo, non c'è nessun motivo oggi per andare a comprare la coppia euro sterlina, e ogni volta che il mercato disegna un minimo nuovo, come in questo caso vedete dopo questo, eccolo qua, per noi questo sarà il nuovo minimo da rompere per continuare la tendenza short, e via dicendo, se il mercato continuerà a non avere un massimo nuovo e quindi un minimo crescente, il mercato continuerà a essere in tendenza, quindi finché che cosa? Andiamo a vedere, il mercato non andrà da qui, magari non rompe questo minimo, da qui riparte al rialzo, mi rompe questo livello di massimo decrescente, vedete, rispetto a questo qui, perché se andiamo a prendere poi tutti questi massimi, che vi voglio far vedere qui, eccolo qua, vedete che il mercato, il nuovo, diciamo, il massimo relativo precedente del momento attuale di questo mercato è proprio questo, cioè il massimo che vede lo 0,7980 per la coppia, e quindi che cosa fare? Da qui se il mercato dovesse rompere questo livello in chiusura giornaliera, allora potrebbe essere molto probabile che il mercato da qui possa iniziare una fase diversa, che sia una inversione e non lo sapremo mai, finché non lo vedremo, perché il mercato ovviamente è imprevedibile ed è per questo che dico sempre di avere una metodologia di azione quando si opera sui mercati e questa metodologia cercarla di rispettarla con disciplina sempre, perché nel momento in cui il mercato non va a rispettare quello che è il metodo, ovviamente si scatteranno i nostri stop loss protettivi del capitale e cercheremo un'altra operazione che invece può dare dei risultati positivi. Quindi mai cercare di, come dire, prevedere il mercato in senso stretto, ovviamente prevederlo rispettando la metodologia, quindi operando, cercando di lavorare in questo modo. Cosa vi ho fatto vedere adesso? Vi ho fatto vedere una base veramente molto semplice di quello che è il cercare attraverso la price action naked, la purazione dei prezzi pulita dei grafici, di vedere un grafico senza troppe, ripeto, complicanze ulteriori dove magari si va a vedere e leggere i trend attraverso oscillatori che possono identificare una fase di trend più o meno interessante. Perché nel tempo, almeno per la mia esperienza personale, ho notato che questo tipo di indicazioni supportive alla nostra analisi tecnica, semplice grafica, possono solamente creare più confusione nella nostra attività di trading. Voi provate a pensare solamente se iniziate a guardare l'ora, attraverso magari l'orologio che avete a casa, poi magari nel polso avete altri 4 orologi e tutti vi dicono un'ora diversa. Uno vi dice che adesso sono le 18 e 20, l'altro dice che sono le 18 e 23, quell'altro le 18 e 17 e voi avete solamente confusione e non riuscite a operare in maniera semplice e soprattutto con una emotività pulita che possa dare dei risultati, degli svolti attivi, degli interessi attivi al vostro conto, del positivo nel vostro conto e soprattutto che non vi distolga a livello emotivo da quella che è la vostra disciplina del metodo. Nel momento in cui utilizzate troppe cose, spesso si rischia di creare confusione nella metodologia e soprattutto confusione nei risultati del trading, non si sa più chi dare la colpa e diventa solo confusione. Allora la cosa principale da guardare è intanto capire se siamo in una tendenza o non siamo in una tendenza. La prima cosa che io vedo e sulla quale cerco di soffermarmi quando vedo un grafico è di vedere se è in tendenza o meno, quindi se ha una serie consecutiva di massimi e minimi decrescenti e quindi se siamo in una fase per esempio short come in questo grafico. Questo è un bel grafico, è un grafico che ci indica una fase short, perché abbiamo, ripeto, massimi e minimi che continuano ad essere rotti. Nel momento in cui il mercato è probabilmente visto la price action che si sta formando quest'oggi sulla coppia, è molto probabile che domani se il mercato dovesse rompere questi livelli, possa avere un nuovo movimento di ribasso, perché? Perché viene rotto il minimo decrescente relativo. Quindi questo può essere interessante in ottica anche di trading operativo didattico, proprio per capire già domani, dopo domani, questa fase di trend come viene poi continuata nel futuro. Avete visto che ultimamente l'euro sterlina è sempre in questa fase, quindi per me oggi è buono questo come mercato per essere venduto, perché, ripeto, una fase di trend è trend fino a prova contraria, quindi fianché non ci va a violare il massimo decrescente relativo. Allora, questa è la prima cosa che io vado a vedere nel momento in cui cerco una fase di trend e vi ripeto che nell'85% del mio tempo cerco fasi di questo tipo, che siano rialziste o ribassiste, come in questo caso che è un esempio pratico che ho qui davanti e quindi l'ho preso proprio fresco La prima cosa, ripeto, è il trend, perché operare in trend è una delle caratteristiche fondamentali per non rimanere spesso impiccati su certe operazioni. Spesso io noto nella mia operatività quotidiana che anche a volte entrare con un timing non perfetto su alcune operazioni di trading, lavorando in trend invece si ha la possibilità di mettere diciamo una toppa all'entrata con timing non perfetto perché il mercato poi ti porta con sé e quindi lavora diciamo per te. Quindi partiamo dal presupposto che l'85-90% del mio tempo lo dedicherò a seguire mercati che offrano questo tipo di situazione ovviamente rialzista come per esempio il titolo Solvei che è un titolo quindi non è neanche una coppia Forex, quindi vedete io spazio molto, lavoro con i CFD quando il mercato che vado a vedere che sia sull'azionario, che sia sull'indice, che sia sul Forex o comunque su qualsiasi strumento è un mercato che è liquido, che lavora bene, che ha una buona tendenza, IG offre una quantità di mercati che è spaventosa, prendete il mercato che in quel momento è migliore e che in ottica di trend vi possa far prendere dei miei movimenti direzionali, vedete qui io sono tra l'altro lungo di questo titolo, di questo titolo che è il titolo di un'azienda belga del settore chimico, Solvei, è quotata all'Euronext e ha una fase molto buona perché vedete che è una fase che continua a fare dei minimi e dei massimi che continuano minimi e massimi che continuano a crescere, ok? Proprio oggi infatti il mercato ha rotto il massimo precedente, quindi questo mi va ancora di più a confermare che domani potremo avere una continuazione della tendenza e quindi il mio trailing stop che mi sono creato, vedete io ho comprato qui, il mio stop adesso è uno stop a profitto e più il mercato salirà più mi sposterò con uno stop a step, questo fa parte di una strategia che utilizzo, ma quello che oggi voglio farvi vedere è ovviamente come poter andare a ricercare queste tipologie di mercati in tendenza e anche dove magari comprare e vendere, quindi ritorniamo sul nostro grafico di Eurosterlina che è un grafico diciamo con una tendenza short e andiamo a capire poi l'altro diciamo ingrediente che utilizzo per far sì che questa diciamo situazione grafica di prezzo, di price action pura, mi venga confermata. Allora qual è l'altra situazione che io utilizzo? L'altra situazione che utilizzo è l'unico diciamo indicatore che utilizzo che è questa media mobile che ha 21 periodi esponenziale a prezzo di chiusura, quindi tiene conto di tutti i prezzi di chiusura delle ultime 21 sedute, in questo caso perché è grafico giornaliero, ecco parentesi, io vi sto facendo vedere grafici giornalieri perché io come trader opero su questo tipo di time frame, però ovviamente un trend è trend anche su un grafico per esempio a 15 minuti e a un'ora, ecco magari il mio consiglio è quello di cercare di andare a lavorare almeno su grafici a un'ora o più alti, proprio perché così avete magari meno rumore sul mercato e i trend sono più belli, se voi per esempio prendete un grafico a 15 minuti, prendete un grafico weekly o persino daily, vi dico sicuramente i trend li vedete, ma anche proprio le candele sono più, tutto il grafico, il prezzo è più lineare, quindi diciamo si lavora meglio, ecco questo almeno per quanto riguarda la mia esperienza, quindi lavoriamo in questo momento su un grafico giornaliero che indica una situazione short, quindi abbiamo anche il nostro tempo da dedicare al nostro inserimento dell'ordine, alla nostra gestione dell'operazione che sia il più calmo possibile e non data dalla pancia che vi indica magari di comprare o vendere e quindi chiudere l'operazione in maniera un po' affrettata, quindi cerchiamo un po' di calma, di lavorare per guadagnare e con calma cercare di capire se quello che stiamo facendo è una situazione corretta, in questo caso sarebbe corretto cercare delle operazioni short, allora questa media mobile io come la utilizzo? Se già il mercato come price action mi dice che ci sono dei massimi e minimi decrescenti puliti, come in questo caso molto pulito questo mercato, allora la secondo ingrediente che utilizza è questa media mobile, 21 periodi, prezzo di chiusura, quindi la EMA, Exponential Moving Average e la cosa che mi conferma questa situazione è che il prezzo deve rimanere sotto la media mobile, cioè se il prezzo è sotto la media mobile quindi non inizia a essere un paio di giorni sopra, un giorno sotto, poi ritorna a tre giorni sopra, ecco questo mi indica e mi conferma assolutamente la situazione graficamente short, ok? Diciamo che utilizzo questa media mobile forse come non tanti trader fanno, perché magari ci sono più strategie dedicate a magari l'incrocio delle medie mobile piuttosto che altre strategie, ma è da solo un'indicazione un po' come il termometro se il mercato di riferimento che ho davanti ha la febbre o non ha la febbre, ok? Mi conferma la mia vision, ok? Quindi questa EMA 21 periodi è una Exponential Moving Average, vedo una domanda che mi si è appena fatta, il motivo per cui utilizzo questa, EMA 20 va bene, 20-21 cambia pochissimo, ma la utilizzo perché ho visto che statisticamente nella mia metodologia, diciamo, è una metodologia che è vero che utilizzo i grafici daily, però è una metodologia molto di breve termine, quindi io entro sul mercato e le mie operazioni durano da qualche ora a qualche giorno, quindi non sto sul mercato tre mesi solitamente, se sto tre mesi vuol dire che sto talmente guadagnando tanto, il mercato in trailing stop non mi ha ancora buttato fuori, ma è molto raro questo insomma, solitamente entro qualche ora, qualche giorno il mercato mi fa uscire, esempio vi faccio vedere, un'operazione che mi si è chiusa proprio oggi, era sull'euro dollaro, vedete avevo venduto praticamente vi faccio vedere, avevo venduto l'euro dollaro qui sotto e il mercato poi in trailing mi ha fatto chiudere l'operazione, quindi di base questa è durata qualche ora, perché mi è entrata questa mattina dire mi ha dato qualche ora, può essere che invece operazioni come per esempio quella che so sul solvei, su questo titolo invece è dentro da due giorni e quindi può essere che il mercato mi dia la possibilità di star dentro più giorni e quindi magari di guadagnare anche qualcosa in più, quindi 21 periodi proprio perché mi ha dato proprio statisticamente come termometro di tendenza per il mio carattere, che è un carattere che vuole le cose ben pianificate prima, quindi il grafico daily per me è una sicurezza da questo punto di vista, perché è più calmo, ha dei trend più lineari, insomma tutto quello che ho detto prima, mi dà la possibilità di essere più tranquillo nella mia gestione dell'operazione e però utilizzando questa EMA20 che mi dà da termometro di trend, utilizzo proprio tendenze di brevissimo, quindi a me non piace stare dentro al mercato tre mesi, come a volte non mi piace stare neanche dieci minuti sul mercato, avere quell'ottica di trading che dura da qualche ora a qualche giorno, secondo me per il carattere che ho io è la migliore, l'EMA21 era diciamo l'indicatore per eccellenza che mi dava questo termometro per dei trend di brevissimo, ecco il perché dell'EMA21. Mi si chiede quanti pips da minimo massimo, come inserire l'ordine, dove viene messo lo stop, consigli insomma per entrare per esempio su questo mercato, ma potrebbe essere qualsiasi altro. Allora, volevo proprio arrivare qui, nel momento in cui troviamo un mercato in tendenza, la cosa più rilevante, più interessante potrebbe essere ovviamente quella di cercare dei segnali operativi che possono indicare, che possono darmi l'indicazione per entrare a mercato. Ok, allora, io solitamente cosa faccio? Vado a prendermi e adesso faccio una cosa di questo tipo, cancello tutti gli oggetti e ritorno pulito, vado a fare che cosa? Ovviamente devo avere intanto la rottura del minimo precedente, quindi in questo caso devo avere una rottura. E poi che cosa faccio? Vado praticamente a ricercare i momenti dove il mercato mi ha fatto dei falsi breakout dei massimi precedenti e abbia almeno un po' ritracciato, quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che io devo avere un movimento di tendenza, devo avere almeno un paio, quindi almeno due, dalle due alle sei, dico sempre anche se sei spesso sono un po' troppe, comunque io vi dico due, tre, quattro giornate di ritracciamento sono le migliori, quindi devo avere una situazione grafica dove il mercato dopo una fase direzionale ricerca diciamo di, come una calamita di andare a toccare la media mobile, come in questo caso, e poi devo avere una giornata che va totalmente contraria, almeno per un certo tempo come in questo caso, vedete, come questa candela qui, mi devo avere una giornata che mi fa vedere che il mercato durante il giorno, poi noi per esempio il forex io lo vado sempre ad analizzare alla sera, verso le 11 della sera, mi metto lì, ho una watch list di circa una quindicina di coppie di valute, in questo caso per il forex poi guardo anche tutti gli indici e alcune azioni, in questo caso per il forex guardo quindi sempre in questo caso il end of day, ovviamente, e cosa succede? Succede che il mercato va a spingersi al rialzo e mi chiude a ribassista, questo per me è un semplice segnale d'entrata, quindi in maniera molto, proprio semplice, si potrebbe entrare su questo mercato, e com'è che si va a entrare, come si può entrare qui? Le mie entrate solitamente vengono inserite sotto il minimo della giornata, quindi vi prendete il minimo, prendete circa 3-4 pip sotto il minimo, mettete uno stop sempre, costantemente, 3-4 pip sopra il massimo, sempre mi raccomando, e cercate il movimento, ok? Quindi nel momento in cui il mercato fa una fase direzionale, cercate una fase di ritracciamento, una falsa rottura, quindi un movimento contrario della giornata, per poi chiudere sotto, in questo caso poi io non ne troverai altri, se no eccolo qui un altro movimento, vedete dopo una fase direzionale, il mercato ha ritracciato, e vedete fa questa falsa rottura, chiamo io il false breakout, una delle strategie che utilizzo maggiormente, e però poi mi va a fare invece una chiusura bearish, quindi una chiusura che continua la fase di tendenza, quindi anche qui tranquillamente si può andare a inserire un ordine, io lavoro solo con ordini pendenti, sotto il minimo di questa giornata, con stop sopra i massimi della giornata, e cercare una fase direzionale, stessa cosa qui, guardate questa candela bellissima, che ci mostra come nella giornata il mercato ha cercato di andare a violare tutte le resistenze precedenti, e poi ovviamente il mercato ha chiuso, che ci conferma la continuazione di tendenza, quindi questa potrebbe essere una metodologia molto semplice, applicabile a tutti i mercati che abbiano una tendenza simile a questa, che abbiano una fase che abbiamo detto abbia dei massimi decrescenti, che abbia la EMA21 sopra al prezzo se siamo short o sotto il prezzo se siamo long, e cercare queste fasi, vi assicuro che se già solamente voi lavorate con questa strategia e avete un utilizzo del money management, corretto, quindi nel momento in cui inserite questo ordine, sapete che questo ordine per esempio, facciamo finta che siamo entrati qui, e prendo il mio righello, questo ordine avrebbe avuto circa, ma non tanto circa, 64 pip di stop loss, ecco, sappiate ben, nella piattaforma DG vi consente di vedere esattamente quanto potete rischiare, quanto potete investire su questo trade, se potete rischiare, non so, facciamo una cifra al caso, 300 euro su questo trade, dovrete andare a tarare i vostri CFD che comprate o che vendete, in questo caso che vendete, a seconda dei 64 pip che avete di stop loss, cosicché nel momento in cui il mercato va giù, ribassa, bene, siamo tutti contenti e lo seguirete con un trailing stop, nel momento in cui invece il mercato va contrario perché abbiamo detto precedentemente che purtroppo il mercato è imprevedibile, se no saremo tutti dei maghi del mercato, noi accuseremo la nostra piccola perdita, ma che ci siamo prefissati prima, 300, 200, 100 euro, 1000 euro, quello che è corretto nella vostra gestione del portafoglio, in questo caso ovviamente in questo webinar sicuramente non è tema, quindi mi raccomando sempre utilizzare questa tipologia di, c'è sempre lo stop, è sempre questa tipologia di entrata nel momento in cui lavorate in questo modo che vi ho appena citato, quindi movimento direzionale, vedete se c'è un ritracciamento, in questo ritracciamento cercate una fase di falsa rottura, una fase dove il mercato ci sta dicendo, fa un falso breakout, vedete il movimento poi è andato giù, il prezzo è andato giù, però qui vedete su questo fase di ritracciamento purtroppo non ci avrebbe dato indicazioni di entrata e quindi non saremo entrati, non ci ha fatto purtroppo anticipazione del movimento direzionale successivo che è stato anche interessante, poi cosa succede? invece qui guardate, invece con questa candela qui, molto interessante, che fa proprio, va a ritestare tutti i minimi precedenti, questo potrebbe essere un altro falso breakout, vedete che il mercato va a fare proprio falso movimento, anche questa, ce ne sono due qui, spero di essere chiaro, poi provate ad andare a vedere un po' di grafici, ripeto avete la possibilità di vedere tantissimi mercati, quindi se non è oggi la coppia per esempio euro sterlina, ma se è un euro dollaro, piuttosto che anche un titolo o un indice, ce n'è sempre di queste situazioni, il mercato faceva questo in passato, lo fa oggi, lo farà anche domani, quindi l'importante è per noi trader, io dico sempre, cercare di cogliere l'opportunità, siamo un po' come delle persone, degli immobiliaristi che cercano il migliore immobile e per cercare il migliore immobile, il miglior affare diciamo, dobbiamo andarne a vedere magari 40 di immobili, su questi 40 troviamo quello buono da poter andare a gestire con una compravendita, quindi la stessa cosa vale per il mercato finanziario, quindi per fare trading, in questo caso abbiamo queste bellissime due situazioni, anche qui sempre vendere stop sotto il minimo, con stop loss sopra i massimi, stessa cosa, e via dicendo, ecco, in questo caso potrebbe esserci, ve lo dico, così capite, io potevo fare un'operazione con questo falso breakout e qui probabilmente avrei preso uno stop loss, così vi faccio vedere anche un'operazione che purtroppo rispetto a tutte le altre potrebbe essere andata non bene, in questo caso vedete che per me questa situazione grafica mi indica una fase direzionale, un breve ritracciamento di 3 giorni, una falsa rottura dei massimi precedenti, purtroppo in questo caso aver venduto i minimi non sarebbe servito e quindi qui sarebbe scattato il nostro stop, ok? E via dicendo, ne è avvenuto un altro proprio in questa giornata, vedete com'è interessante, in questo caso oggi proprio, vi dico, tanto così facciamo anche un'analisi di quello che potrebbe accadere, non c'è stato un vero falso breakout, se prendiamo il grafico non c'è stato un falso breakout, c'è stata però quella che viene chiamata una giornata inside, eccola qua, che è uno dei segnali che utilizzo, che non è tema di oggi ma che sicuramente sarà tema di altri webinar o dei video formativi che ci sono nella sezione di IG sulla parte didattica dedicata ad Arduino Schenato dove faccio vedere tutte le mie strategie, quindi in futuro sicuramente farò qualche video didattico riguardante le candele inside, le giornate inside, perché sono sicuramente un buon segnale di trading, quindi in questo caso vi potrei dire, qui non si entra per la strategia che vi ho appena detto, c'è dei falsi breakout, ma si potrebbe optare per una strategia che non è tema di oggi ma che vi accenno, che è quella di invece andare a cercare di vendere questo livello e quindi di cercare il ritracciamento magari domani su questo livello, quindi impostare un ordine limit, un ordine sell in vendita qui, con uno stop loss comunque protettivo sempre del capitale sopra i massimi, allora questo potrebbe essere interessante come strategia di trading, però ripeto non è argomento, quindi per optare di operare su questo mercato con la strategia di cui stiamo parlando, in questo momento non c'è un vero e proprio segnale oggi, perché dobbiamo attendere un falso breakout dopo un ritracciamento, se notate, e questo è un consiglio che vi do, i migliori falsi breakout vengono fatti spesso nei trend più belli, per prendere ovviamente un movimento più interessante, vengono fatti spesso vicini alla media mobile, quindi magari potrebbe essere un filtro che vi potete dare, nel momento in cui il mercato va vicino alla media mobile e fa un falso breakout dei massimi precedenti e magari anche della media mobile, ecco, quello potrebbe essere un interessante punto di entrata, mi raccomando sempre lavorare però su punti di minimo e di massimo, quindi vendere stop a breakout sotto il minimo o vendere stop a breakout sopra il massimo in caso di trend ascendente. Io ho tantissime domande qui, ve lo dico proprio tantissime e vorrei però fare anche una breve, un cenno anche su quello che riguarda invece il perché e se operare contro trend e se operare contro la tendenza. Prima di passare a questo argomento però cerchiamo di rispondere a tutte le domande perché ovviamente è la cosa più corretta visto che voi mi chiedete un po' di cose. Allora, penso ad alcune di avere già risposto, mi si chiede se ci saranno delle slide di questo webinar, no, ci sarà però sicuramente in una sezione del sito di IG dedicata alla didattica di ordine schenato, sicuramente tra qualche giorno, adesso non so esattamente, comunque nel futuro, troverete questo video, lo ritroverete, quindi poi se ce l'avete sempre a vostra disposizione lo potete controllare e guardare quando volete. Poi mi si chiede nel trading intraday per operazioni a un'ora, qual è la migliore media mobile esponenziale a 21-14 o anche meno periodi. Domanda di Giovanni che saluto e che rispondo in questo modo, io non sono un trader intraday, quindi sarebbe professionale da parte mia risponderti con una cosa che tra virgolette non so e quindi purtroppo nel trading intraday io non ho mai operato in maniera seria, in maniera professionale e quindi non sarebbe corretto. So, ecco, potrei darti questo supporto che ho degli amici che lavorano un po' più nell'intraday con discreto successo, che utilizzano una media a 200 periodi semplice nell'intraday e che anche a loro fa da filtro per operazioni di tendenza. Quindi, ecco, se posso darti un consiglio, utilizza questo tipo di media e cerca di lavorare quando il mercato magari è sotto la media, di cercare dei momenti di pullback vicino alla media a 200 per poter vendere e dei momenti di pullback per poter comprare nel momento in cui il mercato è sopra. Però quello che ti consiglio è di non focalizzarti per forza solo sul grafico a un'ora, per dire. Cerca di vedere anche, per esempio, i grafici daily e non pensare al daily solamente come un grafico dove ti fa entrare e devi stare dentro per forza un mese. Cioè, nel momento in cui tu fai un trading che ti resta un paio di giorni e ti fa vivere bene, ti fa guadagnare bene, penso che sia un ottimo modo di fare trading. In più, se hai tantissimi mercati su cui puoi andare a fare le tue analisi, a cercare di negoziare, hai sicuramente molta più carne al fuoco, diciamo così, per poter trovare delle opportunità molto, molto migliori e di fare daily trading secondo me è un qualcosa di più redditizio. Non che, ovviamente, se non me ne voglia nessuno, però noto anche da chi mi segue da tempo, io sono titolare dell'azienda Yearforex e ho diciamo da tempo contatto con tantissime persone, sia neofiti ma anche gente che fatterina tanto tempo e soprattutto quelli che fatterinano tanto tempo, che hanno lavorato spesso su grafici intraday molto molto stretti, arrivano a me e magari mi seguono nella mia rubrica di analisi didattiche operative che faccio ogni sera e vedo che c'è molta più poi replicabilità nella modalità di trading e anche più successo e quindi non te lo dico perché così, perché ho avuto un esempio tangibile e proprio esperienza pura di chi ha seguito queste cose, quindi per tutti quelli che sono presenti oggi siete in tanti, oltre a questa domanda ovviamente vi confermo che comunque i grafici giornalieri possono darvi delle ottime soddisfazioni, ripeto potete fare tantissime operazioni comunque perché ci sono tantissimi mercati e scegliere i mercati migliori, questo sicuramente. Dopodiché, e un'altra cosa che voglio sfatare, spesso mi si dice, ma per lavorare sul daily bisogna avere tanto capitale, non è vero, perché io ho la possibilità con i mini CFD di comunque tarare il mio rischio, quindi se ho 60 pip di stop loss come in quel caso che vi ho fatto vedere, tarerò i miei 60 pip al mio rischio, non credo che 60 pip siano tantissimo, 60 pip con un mini CFD sono 60 Euro praticamente, con Euro sterlina forse qualcosa in più, perché oggi l'Euro vale meno la sterlina, ma sarà 65 Euro, 70 Euro, penso che sia un rischio di investimento su un'operazione singola che possa essere adatto a tutti i portafogli di trading, ok? Chiudo la parentesi. Ecco però con una curatezza, che è il grafico daily, sicuramente molto migliore. Poi mi viene chiesto se opero in trading o metto anche take profit, dipende dalla strategia che utilizzo e Flavio poi mi chiede sul titolo Solvei il perché, diciamo, qui c'è un doppio massimo e potrebbe invertire. Correttissimo, diciamo che tutto potrebbe succedere, il mercato come dicevo prima non è prevedibile. Il fatto che però mi rompa un massimo precedente, per me invece è un segnale di continuazione, quindi potrebbe essere interessante vedere come il mercato domani faccia magari anche un'apertura in gap, può essere, cioè posso avere una spinta rialzista perché il mercato avendo rotto questo massimo e lo ha rotto, guardate qui, anche a livello proprio di chiusura daily sopra quest'area qui che era l'area di chiusura precedente, questo è un simbolo per me di forza, quindi domani il mercato potrebbe fare tranquillamente battere circa su questo livello e poi ripartire. Quindi finché il trend è trend e non c'è un segno, un qualcosa che mi indica inversione, io sono totalmente long e resterò long e seguirò la mia operazione, tanto io ho il mio blocco dei profitti bloccato qui, quindi ho rischiato esempio 100€ su questa operazione, facciamo un esempio con un numero tondo, 100€, in questo caso ho già bloccato 50€ perché non li posso più perdere, quindi non ho paura che questo sia un doppio massimo, se sarà un doppio massimo magari mi comporterò di conseguenza e cercherò magari l'inversione con il doppio massimo, ma devo avere un segnale che in questo caso non c'è, quindi per me oggi è tutta lunga qua, potrebbe solamente continuare, non per niente i mercati sono in trend perché continuano a rompere massimi e continuano a rompere minimi, altrimenti tutti i doppi massimi e i doppi minimi sarebbero dei segnali, quindi invece noi cerchiamo la continuazione di tendenza. Molto bene, poi qui ci sono un sacco di domande, alcune però sono veramente troppo tecniche o che non riguardano proprio l'argomento di oggi, quindi lascerei stare, vediamo un attimo e poi parto con una veloce analisi di un mercato per farvi vedere invece come io analizzo il mercato per andare contro trend o comunque per cercare un'inversione diciamo. Ok, diciamo che qua avete un sacco di domande, al massimo potete scrivermi su info-hiocciola-hereforex.com ve la scrivo qui e magari vi rispondo perché diventa veramente un po' difficile, scusate ma sono proprio tante e vorrei darvi tutti gli argomenti di oggi, guardate potete scrivere su questa mail del sito hereforex.com e da qui insomma vi rispondo perché avete veramente scritto parecchie domande, altrimenti tralascio un po' troppo l'altro argomento. Quindi avete capito un po' come lavorare in ottica di trend, quindi questo sicuramente è un'ottima modalità per entrare a mercato, quindi cercare queste fasi e poi invece c'è la possibilità anche di cercare nei mercati delle fasi di inversione. Allora, intanto partiamo dal presupposto che cerchiamo di lavorare in trend per il 85-90% del nostro tempo, quindi cerchiamo quei grafici, ma nel momento in cui ho una watchlist e vi faccio vedere, io per esempio ho una watchlist di indici azionari che è di questo tipo, ve la faccio vedere qui, quindi ho l'Eurostox, il Fuzzicento, il Cacarante, il DAX, l'Italia, il Giappone, la Spagna, la Svizzera, lo Standard & Poor's, il Nasdaq e il DAO, quindi ho tutti questi indici che sono molto famosi, sono i più tradati e sul Forex ho tutte queste coppie di valute, anche qui diciamo le più tradate, qui ho l'Euro-Dollaro, c'è la sterlina, sul dollaro c'ho il Kiwi sul dollaro, c'ho il dollaro sul Canada, c'ho l'Australia sul dollaro, l'Euro sull'Australia, l'Euro sulla sterlina, l'Euro sullo Yen, bellissimo, sterlina Yen, bla bla, dollar Yen, ci sono le più importanti, io già se ho una watchlist di riferimento di questo tipo, cioè Forex e indici, quindi ho circa 25 strumenti su cui lavorare, è sicuramente interessante perché io posso ogni giorno praticamente avere opportunità, questo sicuramente con le strategie che utilizzo e utilizzando grafici daily, allora visto che Paolo mi dice vediamo un indice, ti dico sì Paolo vediamo un indice che potrebbe essere il DAX che proprio nel recente passato ha formato due situazioni che io identifico come possibili situazioni di inversione, ok? Allora partiamo dal presupposto che se prendiamo il grafico da sinistra a destra il mercato del DAX è ancora un mercato in tendenza positiva, ok? Perché non ha ancora rotto dei minimi relativi passati molto importanti come in questo caso i 9000 punti, ma nel breve periodo ha invece invertito, quindi nel brevissimo ha una fase short, da dove è derivata questa fase short? Sicuramente da qualcosa che ha, come dire, detto al trader, ad Arduino o a uno di voi, di che ci potrebbe essere un'inversione, quando è che io lavoro con l'inversione? Allora, ve lo scrivo qua, inversione solo quando il mercato di riferimento fa un, in questo caso per un trend long, ovvio che per lo short vale la stessa identica regola, un doppio massimo o triplo massimo, quindi mai al primo massimo e quando fa che cosa? Fa una falsa rottura del massimo precedente, come quindi siamo sempre lì, o fa una giornata inside, ok? Questi sono i tre presupposti per cui su quel mercato posso cercare un'inversione, quando conviene cercare un'inversione, altrimenti diventa poco raccomandabile, diventa anche forse tempo perso e soldi persi, ok? Quindi ritorniamo a noi, abbiamo detto, io sono qui, trovo dei massimi, quindi in questo caso il mercato continua a fare massimi, può fare qualsiasi cosa, ma non fa un doppio massimo, poi eccolo qua, il mercato cosa segna? Segna praticamente un doppio massimo, quindi il tocco del massimo precedente, ma con una falsa rottura, cioè il mercato ha fatto un massimo più alto per poi scendere e chiudere la seduta al di sotto del massimo precedente, spero di essere chiaro, ok? In questo caso, ok? Il mercato ha creato il presupposto del metodo, poi questi sono metodi che io insegno anche in svariate ore di coaching, quindi qua ho poco tempo, spero di essere chiaro con pochi esempi, ma molto chiaro, quindi il doppio massimo c'è, la falsa rottura c'è, in questo caso questo mercato mi permette di andare a cercare la vendita sotto il minimo, sempre, quindi con un ordine sell stop e uno stop loss sempre qualche punto sopra il massimo, e in questo caso anche qui cercheremo di gestirla con un trailing stop, quindi ogni volta che il mercato fa x pip a seconda delle vostre propensioni al rischio, voi andate a gestirlo, ovviamente ho delle strategie che utilizzano, non discrezionalità su utilizzare questo, ma ovviamente non è tema, ok? Allora, questo è uno, poi se il mercato dovesse formare, eccolo qua, questo è proprio un esempio perfetto di quello che è la rispetto della metodologia, della disciplina nel rispettare questa metodologia, abbiamo detto che si entra solo quando contro trend il mercato forma un doppio massimo, un triplo massimo, e fa o una falsa rottura o una giornata di side, vedete qua ha fatto un doppio massimo con la rottura, quindi la falsa rottura, e in questo caso, vedete qui, il mercato ha fatto sempre un doppio massimo, il mercato ha chiuso sempre sotto, mi raccomando, ha chiuso sotto l'area di massimo, vedete? chiuso sotto, mostrando che cosa? Una giornata inside, cioè una giornata che ha massimo e minimo all'interno del massimo e minimo precedente, quindi in questo caso, anche qui, cercherò di investire al ribasso con un ordine sempre 3-4 punti sotto il minimo, e uno stop sempre 3-4 punti sopra il massimo, ok? E anche qui cerchiamo l'inversione, e anche qui la seguiremo con un trailing stop, mi raccomando, mai essere troppo avidi, cerchiamola in trailing stop, se il mercato ci butta fuori, comunque abbiamo preso dei soldi, ok? Ci sarà lui a dirci dove buttarci fuori. Quindi, per chiudere un attimo, prima di passare magari alcune ultime domande e poi chiudere il webinar, la cosa che dovete cercare nei contro trend è questa, che abbiamo scritto qui, così ce l'avete anche scritta, ovviamente i mercati che sono in fase ribassista e quindi cerchiamo, non è che cerchiamo alla fine, è il mercato che ci dice, adesso attenzione perché posso avere una fase correttiva, no? E nel momento in cui il mercato ci dirà, guarda che sono pronto per avere un'inversione di quella che è una tendenza, allora opterò per vendere un mercato rialzista, comprare un mercato ribassista, quindi nel 15% del mio tempo, 20% del mio tempo al massimo, il resto è tutto in trend, solamente però se ci saranno queste situazioni. Vedrete che se le fate come si deve, ovviamente sicuramente sarà un 20% del vostro tempo lavorare contro trend, tutto il resto lo dedicherete a lavorare in trend. Bene, adesso voglio leggere, cioè voglio cercare di rispondere ad alcune domande e poi vi lascerò e ripeto, per qualsiasi cosa al massimo mi scrivete alla mail e cercherò di rispondere quanto prima. Allora, mi viene chiesto da Cesare, giusta domanda, con il metodo visto oggi posso non tracciare preventivamente livelli statici di supporto e resistenza entrando più velocemente, ma io ti consiglio sempre a fine settimana, vi consiglio sempre a fine settimana di dedicare un'oretta del vostro tempo al trading, se lo fate in maniera seria e quando i mercati sono chiusi andare a tracciarvi i livelli più importanti sul grafico settimanale e sul grafico daily, cosicché da non andare a cercare di vendere dei supporti, proprio sopra dei supporti o comprare sotto delle resistenze. Cerchiamo di farlo sui breakout, quindi cercare che il mercato sia già breccato sopra o sotto il supporto, per cercare quindi di lavorare in questo modo. Dopodiché mi si chiede, considerare solo le giornate inside e non anche le outside, sì, va bene anche le outside, le outside stanno nel metodo, stanno nelle false rotture per me, la falsa rottura potrebbe essere una candela outside, dipende, mi deve dare la falsa rottura, cioè deve rompere il massimo precedente, se rompe il massimo precedente allora siamo di fronte a un doppio massimo come intendo io, cioè da poter vendere in questo caso, quindi da cercare l'inversione. Sempre mi raccomando, usiamo lo stop loss perché ogni operazione è una sfida e il mercato ha sempre ragione, non noi, quindi mi raccomando, cerchiamo sempre di essere ligi su questa cosa, sempre lo stop loss, mai rischiare più di una percentuale, soprattutto emotiva ma anche di capitale che siete in grado di rischiare, altrimenti poi si rischia di non riuscire più a lavorare e mi arrivano telefonate o mail di gente un po' confusa perché non riesce più a fare trading, ma perché il trading guadagnano solo pochi, non è vero, bisogna cercare di, sicuramente è vero che guadagnano in pochi, ma il motivo è soprattutto per la parte emotiva, dobbiamo cercare di rischiare solo una quantità di capitale che siamo in grado di rischiare e di lavorare cercando pochi metodi, cose semplici e che diano dei risultati anche, come dire, minimi ma che diano risultati positivi, ok? Quindi le cose che vi ho detto oggi sono per cercare di aiutarvi a fare questo. Dopodiché, Paolo mi dice, falsa rottura del minimo e quindi long oggi. Questo parli di questo? Sul DAX? Siamo sul DAX? Non capisco. Eh, Paolo mi risponde. Sì, lui mi dice, allora, in questo caso, allora, siamo sicuramente su, vedete, un punto chiave. La cosa che non mi piace è che la falsa rottura è stata fatta in due giorni e ci può stare, ma il secondo giorno non mi convince per il motivo che il mercato non mi va a ritestare i minimi precedenti. Quindi, in ottica di, come dire, di trend follower io questa non la vedo come una falsa rottura, ma come una rottura del minimo per la continuazione della situazione. Quindi non la vedo come una situazione per andare long, ok? Ovvio che qui ci potrebbe andare a cercare, magari, un benchmark di mercato come l'S&P 500 e vedere che cosa ha fatto. Ecco, per esempio, il fatto che il benchmark, l'S&P 500, stia rompendo e abbia rotto i massimi precedenti, ecco questo, invece, mi può confermare di più che può essere interessante la tua idea, cioè che questa può essere una vera falsa rottura. Ecco, la cosa che ti consiglio, quale potrebbe essere? Può essere interessante la tua idea, perché comunque la falsa rottura c'è stata. Questa candela, rispetto a quelle che utilizzo, non è la mia candela che utilizzo, ma potrebbe essere interessante esclusivamente aspettare domani alle 8 e mezza della mattina, 8 e mezza, 9, prima che apra la borsa, vedere quali sono i massimi di questa candela e cercare di comprare la rottura. Ovviamente sempre stop sotto i minimi. Allora fai un trade buono, perché comunque hai rispettato, anche se proprio ha, così, ha proprio la regola giustissimo, il, come dire, il mio, il segnale di doppio minimo con falsa rottura, ok? Io le false rotture, per intenderci, le preferisco come? O fatte con una candela sola di un giorno che va a rompere i massimi precedenti e poi li recupera, oppure con candele che questa verde, per esempio, dovrebbe avere un minimo almeno lungo, almeno che arriva qui, ecco per intenderci, ecco perché non mi convince, tutto qui. Quindi, ci sta però la tua idea, non è sbagliata, ok? Però preferisci sempre una candela che abbia il minimo almeno uguale o minimo ancora del minimo precedente, allora qui sarebbe proprio un segnale di doppio minimo da tradare per quanto mi riguarda, per le mie metodologie, ok? Però ci può stare, soprattutto come tu mi hai scritto, Paolo, se vai a breakout dei massimi, quindi buy stop, ci può stare. Attenzione perché il mercato, ecco, sempre sta formando comunque dei minimi decrescenti, quindi attenzione, cerchiamo sempre di lavorare il massimo del nostro tempo in trend. Allora, per quanto riguarda poi altre domande, ok? Fabio mi dice si può comprare in area 9,8, beh, insomma, qua già inizia a essere un po' in alto, io opterei già più per usare la volatilità di questi ultimi due giorni come tipo di stop loss, diciamo, però poi dipende dalle metodologie, insomma. Ripeto, questo non è un trading che io farei perché qui non c'è la falsa rottura che voglio io, ok? Qui per me è una continuazione di tendenza ancora, eh? Andare su breakout comunque ci implica il fatto che il mercato deve rompere i massimi di oggi, domani, quindi ci sta. Ecco, la mia idea è, magari, se si entra a 9, 7 e 50, se il mercato inizia a farsi 30 punti, magari spostiamoci a breakeven e cerchiamo il movimento. Ecco, questo potrebbe essere così, visto che è un'idea contro trend, è meglio essere meno, come dire, cinici sulla gestione, essere un po' più prudenti e cercare il movimento che poi se paga, paga, se non paga, insomma, non dà nessun problema. Bene, ci sono altre domande? Vi chiedo, altrimenti io chiudere la sessione di webinar, vi lascio, ovviamente, per le altre domande al massimo alla mail, oppure potete scrivere anche direttamente IG che poi me le gira, insomma, come volete. L'importante insomma che solitamente cerco, insomma, di rispondere a tutto, ma qua sono veramente, veramente molte, alcune soprattutto non sono in tema della giornata. Ecco. Bene, grazie, buona serata. Sì, mi si chiede se il Fuzzimib funziona con questo metodo, assolutamente sì, anzi, io ti dico tutta la vita, perché ho fatto dei buoni trade sull'indice italiano, l'ultimo è stato fatto proprio su questo falso breakout, lo vedete qua l'avevo già disegnato in passato, siamo presi quasi tutto il movimento, siamo arrivati qui, quindi siamo presi quasi tutto e abbiamo fatto un ottimo trade. Quindi sicuramente utilizzate i mercati che vedete che abbiano una tendenza, ok? Ripeto, se avete poi bisogno di ulteriori velocitazioni, approfondimenti, eccetera, c'è la sezione didattica di IG dove comunque mensilmente faccio un paio di video più il webinar mensile e poi comunque c'è la mia mail e quindi potete tranquillamente scrivermi e approfondire le varie tematiche. Quindi vi ringrazio, vi saluto, ringrazio IG per lo spazio e vi saluto, vi auguro a tutti una buona serata e un buon trading simple. Ciao a tutti!